Buongiorno, mi chiamo Tassone Rocco e rappresento l'istituto al Berghiero di Serra Sant'Ono, in provincia di Vico-Varenzia. Il drink che ho pensato per poter partecipare si chiama Molten Coder. È un drink after hour composto da 5 centilitri di maribou, 4 centilitri di crema di latte, 3 centilitri di grappe francole gru di brachetto e 3 centilitri di licua rice. Iniziamo col mettere del ghiaccio nel water shaker. Inseriamo 5 centilitri di maribou, 4 centilitri di crema di latte, 3 centilitri di grappe e l'incorso. Inseriamo un po' di tutto questo, ecco un po' di ragazza. Chegherà all'occa, 8 centilitri di carne. Aveteciare un po' di taglia. Aveteciare a sweet e al bacio di carne che ci sono troppo di come per Duele vídeo. Aveteciare un po' di taglia. Dichico, aveteciare un po' di cadastra? Aveteciare un po' di taglia. come buona lezione come stai clicando il cocktail è pronto per essere servito iniziamo con la seconda preparazione e si 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 si